Giorni importanti per Fiastra? Sì, un giorno importante da ricordare, va nella ripresa, nel segnale giusto che è quello della ripresa di una comunità che è stata colpita fortemente dal sisma. Quest'area che abbiamo inaugurato questa mattina dà la possibilità agli abitanti di Fiastra di risocializzare non solo l'attività di continuare a svolgere il loro lavoro, ma soprattutto anche di socializzare agli abitanti e residenti, a coloro che vengono a Fiastra. Un momento particolarmente toccante che sta a dimostrare che ormai siamo sulla strada della ripresa e nei prossimi giorni, prima di ferragosto qui nel comune di Fiastra, riusciremo a consegnare anche una parte delle cassette delle SAI, quindi riporteremo anche, come è stato l'impegno della Giunta del Presidente, sin dal primo momento riporteremo le persone ad abitare in questi territori. Questo è importantissimo.